Ciao a tutti, sono Enrico Maria Corna di Sportar24, siamo qui agli ski test di Pampiago per presentare tra le altre cose anche questo Head Vector 110 insieme ad Andrea Taddei che è il promoter di Vector. Questo, come forse si può intuire dai colori particolarmente gradevoli, sarà lo scarpone di punta di Head per il mercato femminile. Andrea, raccontaci quanta tecnologia c'è dentro questo scarpo. Esatto Enrico, Vector è la scarpa lanciata qualche anno fa sul mercato, l'anno scorso è stato completamente riprogettato, ha lanciato un nuovo progetto che sfrutta la nostra nuova tecnologia Dynamic Frame che utilizza la bignezione sullo scafo, quindi una parte posteriore di sostegno e di struttura della scarpa unita ad una parte anteriore con una plastica più morbida che avvolge senza dare fastidio al piede delle donne. Noi sappiamo che le donne cercano il comfort prima di tutto, prima di qualsiasi prestazione sulla neve. Esatto, banalmente possiamo dire che questo sistema tiene molto il tallone della sciatrice, lasciando più spazio sulla pianta del piede, non di muoversi, ma diciamo che il comfort aumenta in questo modo. Esatto, proprio come dici tu, il tallone è la parte diciamo più importante del piede dove comunque abbiamo la struttura mentre la parte anteriore della scarpa nella zona dell'avampiede rimane sì chiusa ma senza punti di pressione in modo da riuscire a dare l'impulso sullo sci tramite appunto lo scarpone Vector senza avere punti di pressione sotto il piede che comunque creano formicolì e fastidio ai piedi. Sempre puntando sul comfort estremo per il nostro pubblico femminile abbiamo studiato piccoli accorgimenti che rendono la giornata sull'isci sempre più divertente. Quindi double power buckle, un sistema che utilizzando appunto la leva aumenta, aumentando il braccio della leva diminuiamo quello che è lo sforzo in chiusura, quindi molto facile da chiudere la scarpa. In più, alla mattina quando fa freddo, magari la signora mette lo scarpone per la prima volta e fa un po' più fatica a prendere l'ultimo gancio che è sempre più difficile, abbiamo studiato questo sistema macro che ti permette di spostare la macro rastrelliera in modo da andarla a prendere più semplicemente. Importante feature sempre per le donne, per chi ha problemi di polpaccio basso, polpaccio grosso, abbiamo studiato questi due eccentrici che potete vedere nella parte posteriore del gambetto dello scarpone che ci permettono di, tramite una piccola brugola, di allargare quella che è la zona alta dello scarpone in modo da inserire perfettamente l'alloggio, alloggiare perfettamente il polpaccio creando un comfort estremo per la sciata in pista. Grazie. 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 Grazie.